Nella tarda mattinata l'elicottero di Silvio Berlusconi è atterrato nella città adriatica per la due giorni di tour elettorale in Molise. Avvicinato dai giornalisti, il leader di Forza Italia ha riservato parole di grande elogio al candidato presidente della coalizione di centrodestra Donato Toma. Giornata termolese per il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi che oggi 13 aprile e domani sarà in Molise per la campagna elettorale in vista del voto per la regione del prossimo 22 di aprile. Ad aspettarlo sul piazzale dello stadio Cannarsa della città adriatica il candidato alla carica di presidente Donato Toma. Berlusconi ha detto di essere in Molise certo della vittoria finale del centrodestra alle elezioni regionali. Un risultato ha aggiunto il leader di Forza Italia che proietterebbe il Molise alla ribalta nazionale e lascerebbe un segno positivo anche sulla composizione del nuovo governo. La visita in Molise ha aggiunto è un passaggio per la costruzione di un nuovo percorso politico fatto di idee, programmi e strategie in grado di assicurare un nuovo corso al territorio molisano. È una regione che ha necessità di trovare nuova forza, ha detto sempre il leader di Forza Italia, e di tornare a contare sui tavoli nazionali per poter avere quelle risposte tanto necessarie ai suoi cittadini. Per questo il centrodestra si pone come avanguardia di questo nuovo corso che la regione Molise deve avviare per poter sperare in un domani. È un candidato credo ideale perché è il presidente dei commercialisti, quindi quella categoria professionale che ha più conoscenza diretta di ciò che succede nelle aziende, nelle famiglie del paese, in quanto per la sua funzione è costretta a conoscere tante cose. Lui insegna anche e quindi è anche capace di parlare con gli altri in maniera convincente. Io credo che noi lo dobbiamo e voi lo dovete ringraziare perché si è messo a disposizione della sua regione e io credo che avendo fatto noi una ricerca e avendo esaminato circa 50 candidati, il candidato migliore tra tutti questi 50 è il risultato Donato. È quindi una persona estremamente concreta, capace di relazionarsi con gli altri, ha portato tutte le sue conoscenze economiche e sociali dentro quello che vorrà fare e io credo che il Molise attraverso Donato potrà migliorare rispetto alla situazione attuale. Silvio Berlusconi non ha mancato di pizzicare il Movimento 5 Stelle. L'inesperienza e l'incapacità di governare, ha detto, non sono un segnale di rinnovamento ma andrebbero solo a determinare nuovi problemi e sommarsi a quelli esistenti. Per questo, ha chiuso Berlusconi, c'è la necessità di affidare la regione Molise ad una forza, il centrodestra, che ha un programma reale e uomini capaci a garantirne il futuro.